Prima considerazione sulla dodicesima giornata. La Juve e l'Atalanta sono in testa e l'Atalanta è ancora in testa per i notevoli tiri in porta, notevoli numeri di tiri in porta e di calci d'angolo. La Lazio è terza per lo stesso motivo. La Roma per il suo equilibrio è quarta. Mentre squadre come l'Inter che hanno un deficit iniziale notevole sono 41 devono recuperare, stanno recuperando. Milan che è la più disastrosa situazione sia come deficit iniziale, come conseguimento sportivo è l'ultimo 17 punti.